Lo spirito, dico lo spirito di questo progetto, il corso di gerogritico, il corso di disegno che invece sarà tenuto da Simona, poi ne parlerà meglio, fanno parte di un progetto che è questo My Ghost Math, che significa la missione archeologica italiana va in missione a distanza. Cioè abbiamo sperimentato, costretti dal Covid, a fare una missione non archeologica, perché per essere archeologi bisogna mettere le mani nel terreno, ma epigrafica a distanza. Cioè far provare alle persone che con un minimo di conoscenza di geroglipico, con un minimo di conoscenza, e poi Simona ha anche dato conoscenze molto approfondite sul disegno digitale, perché è molto brava in tutta la suite di Photoshop, appunto, è possibile sperimentare il piacere, l'esaltazione, tutto quello che deriva proprio da una scoperta senza stare poi sul campo. E questo con Stefania, Jane, Simona, poi è continuata questa esperienza, perché chi poi continuerà questo, non è che dovete fare il progetto, ma chi farà il corso di geroglipico e anche il corso di disegno verrà integrato in questa missione epigrafica che darà poi soddisfazione, ci saranno esercitazioni, saranno spiegate proprio degli approfondimenti esitologici. Allora, per cui questo è il cappello, questi corsi di geroglipico e di disegno digitale rientrano in questo ambito. Da quest'anno ci sarà il corso di arabo, di lingua e letteratura araba, perché ormai l'arabo, soprattutto parlato, ma se si sa anche scritto, e anche meglio, l'arabo parlato diventa indispensabile, fondamentale, necessario e chi più ne ha più ne metta per fare le ricerche in tutto l'ambito del Mediterraneo sudorientale. Quando ho iniziato io, 40 anni fa, bastava l'inglese, con il tempo invece chiaramente queste popolazioni si sono evolute, si sono distanziate dai periodi di colonialismo, perché venivano tutte da esperienze di colonialismo anglo-francese, in qualche caso anche tedesco-italiano, perché la Libia era sotto gli italiani, e evolvendosi una dell'evoluzione è stata un po' come quella che è successo da noi, che noi abbiamo avuto l'archeologia partita dagli inglesi e da tedeschi, poi alla fine anche noi abbiamo iniziato a scrivere gli italiani in prima persona. E questa è l'evoluzione che stanno subendo in questo momento queste popolazioni. Per cui il corso di lingua e letteratura araba, che sarà un corso base, tanto per far capire alle persone che cosa è l'aramo, perché è più che utile. Allora io lascio ora la parola a Simona, che come responsabile del corso ci introdurrà, e poi vi faremo vedere cosa abbiamo anche intenzione di fare. Allora, buonasera a tutti, come prima cosa vi faccio un discorso un po' in generale, diciamo collegandomi a quello che ha detto Francesco finora. Condivido un attimo lo scritto. Allora, il nostro prodotto si chiama MailCosmode, come ha detto Francesco, è nato dal desiderio di poter provare questa emozione della scoperta, proprio quello che fa un archeologo, quello di mettere le mani in pasta e di fare delle nuove scoperte, tramite i mezzi di comunicazione, tramite la tecnologia, tramite questo internet, che oggi ci permette di essere vicini, ma in realtà veniamo da diversi luoghi. Quindi l'obiettivo era quello proprio di provare a vedere se questa esperienza sarebbe stata possibile. Dopo l'anno scorso abbiamo pensato che questa esperienza è possibile, perché dopo un anno abbiamo fatto dei corsi con delle persone che hanno partecipato e con queste persone, con Jane, con Stefania e anche con altri, abbiamo avuto dei momenti in cui dopo grande fatica abbiamo effettivamente scoperto qualcosa di nuovo. Ci siamo affacciati anche su testi inediti, cose che comunque provocano una grande gioia. E quindi era nato così questo progetto. All'inizio è stata una scommessa, ma oggi ne abbiamo la certezza che questo è possibile. Ovviamente per partecipare a una missione archeologica bisogna avere degli strumenti. Sul campo c'è bisogno della pala, del piccone, della traul e di tante altre cose. Ovviamente per fare una missione a distanza c'è bisogno di alcune conoscenze preliminari. Ecco quali sono i nostri strumenti e quelli che noi proponiamo. Questo corso non è fatto solo per persone che studiano queste cose, ma è anche fatto per appassionati che non è detto che debbano avere queste conoscenze prima di partecipare al progetto, perché nasceva l'idea di fare questi corsi, permettere a chi ha solo questa passione di poter partecipare a questa missione archeologica. E allora ecco i nostri corsi, il corso di geroglifico, il corso di disegno epigrafico online e il corso di arabo. Questi sono i prezzi dei vari corsi. Sicuramente poi per chi è interessato basta mandare una mail e li potrà avere tutti comunque elencati, se avete già comunque ricevuto una mail con tutte queste informazioni. Però ve li rifacciamo vedere nel caso appunto di foste dimenticati. Questi sono i prezzi. E poi ci sono delle, come dire, delle offerte per chi voglia partecipare a tutti i corsi per, diciamo, avere un'agevolazione. E niente, quindi per iscriversi basterà semplicemente iscrivere alla mail o ci potete anche contattare su Facebook. E in ultimo, prima di passare alla presentazione del corso di disegno, questa è la nostra pagina Facebook. Se volete avere comunque tutte le informazioni... La prima cosa forse mi presento, non sono proprio una conosciuta come Francesco, mi chiamo Simona Sufano, ho studiato archeologia a Pisa. Nella maggior parte dei casi lavoro e ho lavorato come disegnatrice archeologica, quindi mi occupo della parte grafica di uno scavo archeologico, anche fotografica. E poi ho, insomma, nel corso del tempo, al di fuori dell'università ho preso diverse certificazioni della suite di Adobe. E niente, quindi partiamo un po' con la presentazione del mio corso. Perché fare un corso sul disegno? Sembrerebbe anche un po' anacomistico, nel senso che oggi come oggi, se pensiamo che possiamo fare un modello 3D grazie all'utilizzo del telefono, forse uno pensa e dice ma perché devo fare un corso di disegno? Basta una fotografia che mi risolve ogni cosa. Eppure non è così. A volte forse il meditare mentre si disegna ci permette di vedere cose che con la fotografia non avremmo potuto vedere. Infatti, appunto, grazie al mondo digitale, oggi siamo qui però. Ecco, abbiamo dei rappresentazioni grafiche eccezionali grazie al mondo digitale. Questa è la fotomodellazione. Grazie a delle fotografie noi possiamo ricreare dei modelli tridimensionali di anche un edificio. Quindi pensate che a quanto sia più agevole oggi ricreare, prendere le misure, fare una pianta di un edificio, cosa che prima ovviamente dovevamo prendere, triangolare tutte le informazioni, tutti i muri dovevamo misurarli e occorreva molto più tempo. Le ricostruzioni 3D. Questa qui è stata realizzata credo con il laser scanner e volevo mostrarvela. Brava. Grazie. E forse mi ce l'avevo. Ecco, vedete, questo piccolo video vi fa vedere come noi oggi, grazie alla tecnologia, possiamo addirittura entrare in un monumento che è distante da noi, chilometri e chilometri. addirittura, grazie alla ricostruzione, possiamo addirittura entrare all'interno di un monumento stando comodamente a casa nostra. Vedete questi altri esempi. Abbiamo le ricostruzioni dei volti dei nostri, di alcune mummie, di alcuni personaggi del passato. Abbiamo un esempio di TAC, di questo sarcofago. Ma la cosa appunto è che questo ci permette, no? Comunque di studiare, di avere delle informazioni in più. Oggi paradossalmente potremmo vedere un volto molto similare a quello che doveva essere nel passato questa donna, quest'uomo. E ora vi faccio vedere questo ultimo ritrovato. Penso che è stato inventato qualche anno fa. Questo strumento ci permette di disegnare, grazie all'utilizzo del laser, di disegnare i frammenti ceramici. E vi faccio vedere un attimo quello che fa vedere, delle immagini, diciamo. Grazie. 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 Ok, poi il video continua, ma come dire, la cosa che vi volevo far vedere era come, grazie a quest'utilizzo di questa macchina, una persona, che molto probabilmente non sarà un archeologo, disegna dei frammenti di ceramica. E ovviamente ci mette molto meno tempo rispetto a un disegno manuale. Ma il problema è che a volte la tecnologia, sì, ci permette di velocizzare dei processi, ma se non si hanno delle conoscenze di base, si possono fare degli errori. Infatti, volevo farvi vedere questa cosa. Ecco, nel video questa persona posiziona questo frammento ceramico in questo modo. Pensate che in realtà sta sbagliando. Il vaso non è una forma aperta come se fosse una spodella, ma in realtà è una giara. Quindi, sì, l'utilizzo della tecnologia ci permette di essere più veloci, ma in questo caso non mi serve a nulla se sto dando poi un'informazione sbagliata. E andiamo avanti. In realtà, questa lotta per la sopravvivenza del disegno archeologico è nata molto tempo fa, quando appunto viene ad essere la fotografia. Agli inizi del Novecento, vediamo, o diciamo, fine del Ottocento, inizia a sbaragliare nel mondo dell'archeologia la fotografia. Ovviamente, era una tecnologia che ci permetteva di scattare una foto, prendere un'immagine immediatamente, senza dover stare lì ore e ore a ripopiare un monumento. E quindi, molto spesso, diciamo, soprattutto in quel periodo, si pensò che il disegno poteva essere abbandonato. In realtà, non fu così. Cioè, pensate che, nonostante la fotografia ormai sia nata tanto tempo fa, purtroppo, diciamo, no, purtroppo, non ha sostituito il disegno. Io, nel 2023, vado nelle missioni archeologiche a disegnare frammenti di ceramica, oggetti e qualsiasi cosa è necessario disegnare. Che cos'è il disegno? Secondo Wikipedia, il disegno è una rappresentazione grafica di un qualcosa, di un oggetto, di una persona o di un'idea astratta. Questo bellissimo acquerello è di Howard Carter e in questo caso, ad esempio, ho voluto farvi vedere questo acquerello per un semplice motivo. Grazie al disegno dovete pensare che oggi abbiamo delle dei monumenti, abbiamo delle decorazioni monumentali che purtroppo nel corso del tempo si sono deteriorate e non abbiamo più. Questo è un caso abbastanza fortunato, nel senso che questo è il disegno e questa è la parete originale. Se vedete, questa parete, diciamo, si è conservata abbastanza distrettamente anche i colori si vedono in modo abbastanza netto e è abbastanza, diciamo, chiaro. Certo, forse alcuni dettagli si sono persi, però comunque abbiamo ancora qualcosa che ci racconta di questa parete. e quindi ancora utile questo disegno è utile dover disegnare secondo me sì. Infatti come dicono questi studiosi, quindi non lo dico solo io, il disegno non è soltanto un'illustrazione ma anche un processo conoscitivo. Cioè io conosco un qualcosa ma perché lo sto capendo, sto cercando di capire, riesco a capire quella cosa e la posso disegnare. e anche il disegno è una narrazione storica come dice Carandini perché comunque ha un valore di espressivo, ha un valore di studio. E vi faccio un esempio. Allora ecco questo è un esempio che mi è capitato ultimamente. Allora questa è una stele purtroppo ho solo quella fotografia perché appunto questo è una una stele proveniente da un sito in nei paesi sudarabici dalla diciamo dal sud dell'Oman ecco e questa nella parte superiore ha una iscrizione se vedete bene questa iscrizione è abbastanza leggibile ma quello che vi voglio voglio sottolineare è il fatto che avendo una conoscenza avendo una conoscenza dell'oggetto meditandoci sopra guardando l'oggetto dal vivo e disegnandolo io posso capire tante cose che purtroppo dalla fotografia si potrebbe si potrebbe vedere un altro esempio di l'importanza del disegno e questo sono questi frammenti ceramici questi frammenti ceramici stavano per essere come dire immagazzinati senza nessuno studio perché perché era una classica frammento di giara era abbastanza completa quindi abbiamo solo una parte ma comunque come dire era abbastanza anonima questa giara quindi nel nostro studio ne avevamo già abbastanza e non la volevamo considerare quindi la volevamo mettere nel magazzino e lasciarla lì visto che comunque era presente una forma della giara per scrupolo decisi di disegnarla e il fatto stesso che io abbia deciso di disegnarla abbiamo potuto scoprire mentre appunto stavo disegnando che su questi frammenti c'erano delle se non so se li vedete ma ci sono questi piccoli tondini che qui questa è una decorazione e questi non avevano diciamo come dire non erano sparsi non era una cosa casuale ma in realtà erano una decorazione di solito questi tondini nel sito archeologico di salute nel quale dal quale provengono questi frammenti veniva da decorare il corpo di un serpente quindi io dico caspita c'è un serpente su questa giara e di solito su queste giare così grandi non c'erano rappresentazioni figurative allora prendiamo tutti i pezzi e iniziamo a rimettere insieme i pezzi e la cosa divertente è che non scopriamo un serpente ma scopriamo questa specie di animale l'abbiamo chiamato ghepardo semplicemente perché aveva questi cerchiolini che quindi ci fanno pensare alla pelle ed è una cosa importantissima anche perché è l'unico ghepardo che esiste prima di tutto nel nostro sito ma in tutta la nazione del Romano quindi immaginate cosa avremmo potuto perdere se non avessi voluto disegnare questo vaso perché la fotografia l'avevamo fatta ma dalla fotografia non ci eravamo resi conto della presenza della decorazione quindi il disegno serve appunto per studiare per la conoscenza ma anche per la divulgazione questa è una statuista in un shop di Aruba se io volessi scrivere un testo e quindi comunicare con la comunità scientifica circa l'iscrizione di questo oggetto mettendo solo la fotografia non è possibile tutti agli altri che non appunto non hanno davanti a sé la statuina di poter visionare tutta l'iscrizione ma grazie al al disegno in questo caso svolto un disegno svolto diciamo praticamente è come se spiaccico su un foglio tutta la diciamo l'iscrizione quindi mi permette in questo caso il disegno di comunicare qualcosa che in realtà con la fotografia non avrei potuto comunicare noi proponiamo un corso di disegno epigrafico anche perché appunto sarà l'unica cosa a parte qualche esempio iniziale di disegno di ceramica che andremo a trattare quindi epigrafico proprio perché appunto si tratta di epigrafi di diciamo di iscrizioni o di figurazioni su monumenti steli e cose di questo genere il disegno digitale diciamo come dire il programma che andremo a utilizzare sarà un programma di grafica vettoriale cioè Adobe Illustrator ci sono anche altri programmi che sono open source ma credo che il programma più versabile sia appunto Illustrator dobbiamo anche forse quello più facile per certi versi una volta entrato nel meccanismo Adobe ci permette di creare veramente tante cose di fare tante cose ma ovviamente in maniera più lineare rispetto ad altri programmi come ad esempio InScape che sono un po' più macchinosi i vantaggi di un disegno digitale di un disegno fatto con grafica vettoriale che io posso una volta realizzato il disegno perché prima si facevano dei disegni a mano posso modificare il disegno a mio piacimento vedete questo stesso vaso una volta la sezione nera con delle linee più spesse dall'altro lato è tutto molto più sottile questa differenza si può creare in due secondi una volta ricreato il disegno quindi come dire è una volta fatto lo sforzo iniziale il file che vado a creare è un file utilizzabile in più modi un file che non viene perso non si distrugge ovviamente a parte se uno rompe un hard disk però come dire i disegni sul foglio il foglio va a deteriorarsi gli svantaggi è che sicuramente ad esempio i bei disegni che uno può pensare ad esempio fatti nell'ottocento dai grandi dai grandi viaggiatori come quelli delle description dell'egypt sono disegni fatti con l'acquerello fatti con le sfumature che ovviamente hanno anche un altro valore purtroppo con grafica vettoriale la grafica vettoriale è nata per la creazione di loghi di disegni semplici quindi non non prevede l'utilizzo di un delle sfumature questo vasetto qui con la doppia ansa è stato creato una sfumatura successiva con con Photoshop quello che potreste creare con il lustreto è la giara quella sfumorata in rosto ma tendenzialmente oggi nel mondo dell'archeologia i vasi si fanno abbastanza schematici come diciamo quello centrale e volevo farvi vedere quello che abbiamo realizzato l'anno scorso con gli studenti del corso dell'anno scorso abbiamo preso questa parete del cenotapio di Argua e in realtà aveva cinque porte però con una questione di grandezza nella diapositiva l'ho tagliata e abbiamo realizzato il suo disegno epigrafico pensate che per poi poterlo studiare è molto più agevole leggere un testo da un disegno che dalla fotografia ecco che quindi ovviamente è quel valore di un disegno ecco perché si disegna la fotografia sì è necessaria ma è anche più disagevole il suo utilizzo poi qui ho voluto mettere degli esempi di come si utilizza anche il programma illustrator per motivi personali cioè creazione di loghi di biglietti da visita biglietti augurali per farvi vedere che comunque un programma versatile non serve soltanto all'archeologia e quindi una volta diciamo avuto questa conoscenza sicuramente si potrà utilizzare anche per altri motivi questo è un po' lo schema iniziale diciamo lo schema delle lezioni sono 12 lezioni questi sono gli argomenti chiave poi come dire nel corso del percorso potremmo anche comunque avere delle esercitazioni se qualcosa non si capisce si può sempre andare avanti e cercare di focalizzarsi su alcuni elementi che sono quanto chiari ma allora se non ci sono domande vedo che non ci sono domande oppure o ci sono no non ci sono non ci sono allora condivido lo schermo io e va bene allora buona continuazione ciao Simona buon viaggio grazie ciao allora ora dovreste vedere la mia partecipazione la mia prima slide vero? si vedete? si si vediamo perfettamente benissimo allora questa è la lezione zero del corso di introduzione al geroglifico e serve soprattutto per togliere un po' di paure che le persone hanno quando si trovano a pensare ora oddio devo fare un corso di geroglifico voglio fare un corso di geroglifico ma mi metto nei pasticci perché è una lingua cioè una lingua una scrittura si poi c'è anche la lingua ma una scrittura totalmente diversa da quella che sono abituato io tutti i giorni beh io vi voglio appunto voglio sfatare alcuni miti sul geroglifico anche sulla distanza proprio della lingua egizia dalla lingua italiana sembra che stia dicendo un'assurdità perché sono lingue distante geograficamente e temporalmente ma ci sono molte più cose in comune di quanto appare in un primo momento innanzitutto il sistema di scrittura geroglifico ce l'abbiamo anche noi il sistema di scrittura geroglifico perché per esempio ci sono i geroglifici moderni sono i segnali stradali questi segnali stradali che chi guida e ormai siamo fra adulti tutti guidiamo abbiamo dovuto imparare quando li abbiamo imparati abbiamo imparato dei geroglifici perché questo con il bovino all'interno del triangolo già segnala pericolo già è un primo concetto pericolo poi c'è un bovino da una parte un cerbiatto capriolo dall'altra parte uno ci dice lo sappiamo ce l'hanno spiegato pericolo animali domestici ed è già geroglifico utilizzare un bovino come animale domestico perché ci potevamo mettere una gallina ci potevamo mettere un cane un gatto chiaramente se uno va addosso a un cane un gatto la gallina l'ammazza se va addosso però a un bovino a una mucca un toro un toro ancora peggio sfascia la macchina per cui il pericolo per dare più in senso di pericolo si mette l'animale grosso dall'altra parte questo capriolo perché i caprioli sono quelli che in tutto il mondo si buttano in mezzo alla strada e ci sono anche delle declinazioni geografiche cioè ci sono delle traduzioni perché per esempio vedete noi in occidente europeo nell'occidente europeo il segno del pericolo è un triangolo rosso invece nei paesi anglosassoni che sono soprattutto l'inghilterra no ma sono questi sono l'america l'australia il canada il pericolo è determinato invece da un rombo regolare giallo per cui già c'è una è come se fosse una lingua una lingua diversa una traduzione che il geroglifico però il geroglifico il sistema geroglifico permette di farla in maniera abbastanza semplice poi ci sono delle declinazioni ancora più specifiche come questo è un pericolo che non si sa se è un animale domestico o un animale un animale selvatico però il cammello questo chiaramente si troverà in Arabia oppure questo è soltanto in Australia sono anche servono anche il sistema geroglifico permette comunque con pochi cambiamenti di essere tradotto senza ricorrere a la lingua cioè io qui se vedo il canguro dentro il rombo so che il rombo è il pericolo in Australia siamo in Australia chiaramente lo leggo pericolo ci sono i canguori che passano in mezzo alla strada un inglese lo leggerà beware kangaroo un francese lo leggerà danger des passages de kangaroo cioè non implica necessariamente un collegamento univoco con una lingua mentre invece c'è la scrittura come noi io ho scritto geroglifici moderni questo è italiano chiaramente per cui c'è una facilità ci sono ancora delle cose più specifiche queste sono degli animali venenosi che si trovano in Australia perché l'Australia deve essere non ci sono mai stato ma un paese terribile che si trovano tutti questi animali e poi ci sono anche altri geroglifici questi sono di più recente formazione rispetto ai disegnali stradali che sono gli emoji i cosiddetti emoji che servono a scrivere ora sono emoji danno delle emozioni ma volendo potremmo scrivere anche delle frasi perché io potrei scrivere non lo so sono a casa ora non c'è la casa però potrei mettere un personaggio maschile che sono io e poi la casa sono a casa e già questo è un altro geroglifico un modo di esprimere il geroglifico con un minimo di sviluppo gli emoji potrebbero diventare un sistema geroglifico a tutti i diritti e questo noi ora non è che ci ricordiamo tutti questi emoji perché scorriamo il telefonino e vengono fuori e troviamo quello che ci serve però gli emoji vi posso dire che sono più dei geroglifici egizi perché ora non lo so quanti sono ma sono veramente numerosissimi un'altra cosa che che crea difficoltà nello studio del geroglifico è la mancanza di delle vocali io ho preso la parola italiana aiuole dove in apparenza ci sono tutte e cinque le vocali dell'italiano c'è la A la I la U la O e la E lo vedete però questo è soltanto è soltanto in apparenza perché queste questa I non sono tutte delle vocali come ci spiegano a scuola per semplificare ma sono già lo vediamo per esempio in questa pagina di un dizionario vedete la I non è scritta I ma questo è un dizionario antico ma è scritta con una I lunga con una J quella che ormai si chiama J per cui ci dice che quella I è in apparenza una vocale ma invece è una consonante la J è una consonante questo dappertutto ma ancora meglio è una semiconsonante quello che ci troviamo anche noi nel geroglifico è che la notazione è di consonanti e semiconsonanti non non troviamo le vocali se poi analizziamo dal punto di vista fonetico la parola aiuole ci rendiamo conto che non solo c'è la in lunga come semiconsonante ma abbiamo altri semiconsonanti qui ho messo una H nella aiuole nella A all'inizio perché voi non dite A dite A è un A molto forte ci ho messo un H ma c'è tanto per capirci e poi anche la O che è un segnetto di così perché non dite aiuole ma dite aiuo e sentite aiuo e la e la voce si ferma cioè questa che ho messo come H un po' sbagliata e questa che ho messo invece come un apostrofo sono due semiconsonanti che vengono nascoste dalle vocali per cui noi abbiamo un sistema di notazione molto semplificato rispetto si dice sempre che l'italiano si scrive come si legge non è vero perché anche per esempio se pensate alle similanti noi abbiamo come similante la S e la Z ma non diciamo sempre S e Z diciamo S ma per esempio la rosa non è rosa è la rosa che è fra la S e la Z la borsa non è né S né Z è una cioè è tutto molto più complesso poi siccome siamo parlanti italiano ci viene molto semplificato questa cosa qua ve la voglio far vedere l'evoluzione dell'italiano utilizzando un po' una cosa della settimana enigmistica che c'è questa rubrica una gita e la gita la nostra gita ci porta al parco dei mostri ultimo marzo a Viterbo questo parco di mostro dei mostri fu voluto da uno dei principi Orsini e fu realizzato intorno alla metà del sedicesimo secolo da Pirro Ligorio un architetto molto che tra l'altro Pirro Ligorio era interessato proprio allo studio dei geroglifici per come si intendeva i geroglifici in questo parco dei mostri ci sono delle cose abbastanza eccezionali come questa casa pendente che crea questo senso di spaesamento ma ci sono anche delle iscrizioni sono iscrizioni un po' critiche descrivono ma ci danno un senso di un italiano ancora in evoluzione perché per esempio se si prende questa iscrizione guardate come è scritta orrende c'è questa H che chiaramente nell'italiano voi orrende se scriveste orrende se aveste scritto orrende con l'H all'elementare avreste preso un vuotaccio mentre invece scusate mentre invece qui c'è questa H perché lì è proprio lo stesso siamo nello stesso ordine di Dei di aiuole cioè c'è bisogno della consonante all'inizio per poter leggere questa per poter leggere questa poi chiaramente se le lingue e le scritture tendano alla semplificazione questa H non è stata più sentita necessaria ed è sparita un'altra cosa che si vede sempre in queste iscrizioni di Bomarzo noi abbiamo questo la sequenza a r che è una vocale più la liquida la liquida è la r ma se noi prendiamo un'altra iscrizione guardate come è scritto il verbo guardare perché guardarci è quella r che si appiccica la a perché riprendiamo l'iscrizione di prima parte arte maraviglie si sente la r parte mentre se voi prendete guardar la r è molto più debole guardar se io dico guardar io non l'ho detta la r però voi avete capito che dico guardare per cui come vedete l'italiano è apparentemente un sistema di scrittura molto semplice è molto chiaro ma poi di fatto non lo è e questo ci fa arrivare al funzionamento del sistema di scrittura geroglipico perché noi nel sistema italiano le parole vengono scritte con consonanti vocali in questo caso consonante vocale consonante vocale abbiamo casa noi se io mettessi però quando io leggo casa non leggo più C A S A non leggo casa ma leggo casa e quando leggo quella parola quell'insieme di consonanti e vocali è come se fosse un geroglipico invece di essere disegnata la casa viene scritta ma ci richiama l'idea di casa io quando leggo casa vi immagino casa mia voi vi immaginate casa vostra è così che funziona prendendo l'inglese perché questo è un un esempio che avevo fatto quando insegnavo negli Stati Uniti il sistema geroglipico sarebbe come se questo abbiamo qui una sola vocale nel sistema geroglipico e se come questa vocale sparisse e avessimo una sequenza di tre consonanti in inglese questa sequenza di tre consonanti si trova in molte parole io ne ho prese tre ed è come il geroglipico perché anche il geroglipico e qui vi introduco il geroglipico noi abbiamo tre queste che li sottolineo in blu sono tre consonanti e seguite da questo signore che balla che è una parte che è il cosiddetto determinativo per cui queste tre consonanti che sono sembrano i b u le leggiamo convenzionalmente per cui i e u sembrerebbero vocali ma sono queste semi consonanti noi perché queste corrispondono a una parola che potrebbe essere yabuau iebeuo cioè bisogna metterci le vocali che non sono scritte per sapere come andava letta questa parola davvero un parlante egiziano antico un parlante per cui uno che sapeva leggere il geroglipico aveva questo determinativo che era il determinativo dell'uomo danzante sapeva per cui che quelle tre consonanti che precedevano l'uomo danzante non erano altro che il verbo danzare per cui abbiamo la parola egizia si divide in due in due parti ci sono dei segni fonetici cioè che si leggono e un segno semantico che è poi chiamato determinativo che invece ci specifica quella sequenza di segni fonetici che sono solo consonanti come vanno letti ma noi non lo sappiamo più però come vanno interpretati e questo ci permette di tradurlo perché sappiamo che ibu più il segno semantico dell'uomo danzante sta a significare danzare questo ci fa tornare alle nostre sequenze di hnd che abbiamo visto prima in inglese ci sono 5-6 parole che hanno questa sequenza di hnd io ne ho prese tre per cui voi immaginatevi che come se io scrivessi questa parola per capire come la devo leggere mettessi un determinativo per cui le leggo ci metto una mano alla prima parola un cane alla seconda e un cervo alla terza a questo punto io sono se fossi questo è un sistema geroglifico modernizzato se fossi un egiziano saprei come leggervi perché la prima si legge hnd mano la seconda hound seguso e la terza hind che è una parola che si conosce meno ma che sarebbe la femmina del cervo hind per cui vedete come le vocali che a noi ci sembrano basilari fondamentali non siano così importanti quando c'è il determinativo una cosa interessante del geroglifico è che c'è una interazione fra geroglifico e figurazione per cui questa è una figurazione che ho preso dal dal monumento che scaviamo all'Uxor che è il cenotafio di Arwa in alto a destra avete una sequenza di geroglifici che descrivono quello che stiamo vedendo ovvero sia quello che stiamo vedendo è un uomo che porta un bovino con sé e noi abbiamo bovino però è scritto soltanto con i segni geroglifici non c'è il determinativo perché il determinativo è rappresentato dalla figurazione per cui sappiamo che non è un bovino qualsiasi ma René Niuo che sarebbe come si leggono i geroglifici poi chi seguirà il corso lo capirà René Niuo si capisce che non solo è un bovino ma è un bovino giovane il verbo quello lì che abbiamo quelle gambine il vasetto con le gambine significa portare che ha come determinativo l'uomo che porta davvero il bovino queste sono interazioni che si ritrovano anche nei primi documenti della storia egizia questa la tavolazza di Narmer uno dei monumenti più celebri dell'antico Egitto anche qui abbiamo una figurazione con centrale commemora le imprese di questo sovrano che si chiama Narmer abbiamo una figurazione centrale con Narmer che stringe in mano una mazza e afferra per i capelli un nemico e per cui lo sta per massacrare noi abbiamo qui in alto a destra un'iscrizione geroglifica un protogeroglifico dove ci dice la stessa cosa che viene rappresentata dalla figurazione perché noi abbiamo questo che è il falco e si sa che il falco è il sovrano poi il falco ha un braccio perché non potrebbero farlo con una zampa ha un braccio per cui è animato afferra per le narici il nemico per cui anche afferrarlo è avere un potere avere in un certo senso massacrarlo però in questo senso dà il senso di sopraffare ha sopraffatto il nemico e questo eccolo qua la testa del nemico che esce da e questo è il nemico da un pezzo di terra dal quale emergono i papiri che non sono altro e qui invece c'è un un interscambio fra la scrittura e la figurazione e accanto alla figurazione c'è il nome geroglifico del del nemico che che sta massacrando mentre invece nella scrittura geroglifica c'è questa terra di papiri che ci dice comunque che è un nemico del nord ultimo esempio sempre di questa interazione fra figurazione e geroglifico per cui è interessante è bello perché quando uno sa il geroglifico questo sto cercando anche di far vedere quanto sia importante conoscere il geroglifico per capire bene la civiltà egizia questa è una statua di Ramesse secondo e il dio Horun il dio Horun era un dio adorato dalle genti orientali che poi viene personificato dalla sfinge di Gisa comunque questa è una statua che c'è scritto sotto che è Ramesse secondo ma può essere anche letta proprio la statua perché noi abbiamo sulla testa di questo bambino accovacciato un disco solare poi abbiamo appunto il bambino accovacciato e che stringe in mano un giunco una pianta di giunco questi tre questa figurazione composita può essere letta perché il sole eccolo qua abbiamo poi abbiamo il bambino col dito alla bocca significa si legge mess come questo geroglifico e il giunco corrisponde al giunco e si legge su noi abbiamo praticamente qua la lettura di Ramessu cioè Ramesse il fatto che Horun sia dietro le spalle di Ramesse sta proteggendo è un segno anche questa è una posizione è un geroglifico per posizione sta proteggendo Ramesse per cui questo è per darvi conto di quanto sia importante perché si legge come un geroglifico per cui questa era una breve introduzione al geroglifico per farvi vedere quanto sia l'importanza del geroglifico e anche le corrispondenze fra geroglifico e scrittura italiana perché ci sono poi chiaramente ritornerò su questo argomento nella prima lezione comunque questo è il programma del geroglifico sono nove lezioni ogni divisa per argomenti è già stato provata la divisione perché sono state fatte appunto è la seconda volta che facciamo questo corso ci saranno delle esercitazioni finali che vorrei farle qui a Montepulciano in una settimana dal decidere oppure se siete tutti di Chieti conviene parla a Chieti conviene che si muova Maometto e non la montagna scusate dico che sono Maometto però sono con queste nove lezioni più queste tre finali che servono a spiegare dei concetti un pochino più complessi e anche a tradurre anche testi più complessi uno non è in grado di conoscere il geroglifico uno una non è in grado di conoscere il geroglifico in maniera approfondita però è in grado di tradurlo in in modo abbastanza corretto questo io ho finito la mia la mia presentazione e poi vi posso dire che chi partecipa proprio al geroglifico ma al programma cioè al programma di geroglifico disegno e ora vediamo se integrarci anche il perché in realtà l'arabo serve soltanto a chi vuole fare questo come vera professione non è che sia anche Anna Maria abbiamo abbiamo anche un collegamento dall'argentina Anna Maria Rosso per cui non è che si che il l'arabo serve più che altro a chi dell'egittologia oppure dell'archeologia nel sud-est del Mediterraneo vuole farne una professione perché io dico a tutti soprattutto ai ragazzi che iniziate questo lavoro senza aramo già è difficile che riusciate a continuare però chi comunque farà il geroglifico come l'hanno fatto Jane e Stefania poi dopo sarà integrato in un percorso di lavoro di ricerca che vi porterà Jane e Stefania faranno delle esercitazioni perché io ho fatto delle esercitazioni a loro loro faranno delle esercitazioni da chi partecipa e che integreranno tutto quello che non si può fare più di dodici lezioni io non mi sento di farle perché sono troppo approfondite e a un certo punto è bene che una lingua una scrittura si imparino sul campo cioè sulle escrizioni vere poi ci sarà la possibilità di andare a fare esercitazioni anche all'Uxor perché abbiamo una casa e fare questo forse di geroglifico significherà aprirvi delle porte che non non immaginate neanche non riesco a immaginate neanche io perché quando l'ho fatto con Jane e Stefania la prima volta non immaginavo che andasse così bene e arrivassimo a pubblicare stiamo arrivando a pubblicare non solo testi ma anche o loro si stanno anche occupando di altri aspetti dell'egittologia divertendosi perché lo spirito lo spirito di questi corsi è cioè proprio come come fanno gli animali cioè la leonessa insegna i leoncini a cacciare giocando questo è un gioco ma molto serio perché giocheremo con i geroglifici giocheremo con il disegno giocheremo con l'arabo ma giocando perché se no uno si annoia e si dà le martellate sulle dita giocando impareremo queste cose per cui io ora se voi mi dovreste lasciare siccome non ho il vostro indirizzo mi dovreste magari scrivendolo sulla chat lasciare il vostro oppure io vi metto vi metto il mio ora vi metto il mio indirizzo mail sulla chat ecco sto mettendo già quello sbagliato perché io sono così vi metto il mio chi è interessato perché chi è interessato mi scrive e io gli mando il programma dettagliato così uno con tutto tutte le informazioni dettagliate ve l'ho scritto dovreste averlo tagliatevi mi scrivete un messaggio basta che mi scrivete sono interessato al corso di geroglifica al corso di disegno quello che vi pare e io vi mando le informazioni del caso questa richiesta di informazioni non implica che dopo io vi scrivo oh non vi siete scritti non implica niente ve lo mando e poi poi dopo decidete voi la prima lezione del corso di disegno è prevista per il 15 febbraio quella del corso di geroglifica è prevista per il 16 febbraio si accettano istruzioni fino all'ultimo momento perché essendo uno spazio virtuale non c'è la non vorrei andare la volta scorsa eravamo 18 per il geroglifico e 12 per il disegno non andremo mai più di 20 perché dopo inizia perché c'è c'è anche il rapporto voglio mantenere un rapporto non dico uno a uno perché è impossibile ma uno a pochi fra professore e studente per cui questo è insomma è questo è quello che mi prefiggo di fare quello che vi prometto è di darvi i i mezzi per all'inizio al fine del corso per gestire per capire cosa è geroglifico e per iniziare a tradurre per conto vostro delle cose abbastanza semplici alla fine di tutto questo percorso che continua ancora che non non c'è una fine vi vi prometto che sarete proprio integrati in una missione reale con riunioni discussioni ci divertiamo e stiamo facendo anche un po' l'egittologia perché mettendosi persone con differenti competenze come Jane è traduttrice Stefania è un musicista per cui è un approccio serio e professionale perché una traduttrice e una musicista su una su una lingua si mettono in maniera professionale perché uno spartito musicale è una lingua un testo da tradurre certo è una lingua quello sa va a dire c'è bisogno di dirlo per cui io volevo farvi questa introduzione per cercare di sfatare alcuni miti e soprattutto di cercare di farvi vedere che il geroglifico è difficile ma non è così distante dal nostro pensiero è che il nostro pensiero che è talmente semplificato che perdiamo delle spaccettature dell'italiano che ce lo renderebbero molto più simile al al pensiero degli egizi ecco io se volete prima di concludere questo incontro poi appunto meditate voi quello che volete fare se avete qualcosa da chiedermi di tutte e tre i corsi il corso di arabo vi ripeto vi darò informazioni in seguito perché ancora siamo un po' tornati al punto di partenza perché lo volevamo far fare a un professore di Aswan ma ci siamo resi conto che farlo insegnare in inglese magari potrà fare degli interventi più specifici sulla terminologia di uno scavo archeologico ma più in là per cui stiamo ancora lavorandoci su per cui io sono a vostra disposizione se avete domande qualsiasi domanda professore una domanda di carattere pratico si sa già l'orario dei corsi o no allora i costi ve l'ha fatti vedere no no l'orario dei corsi l'orario ah dei corsi scusi avevo capito l'orario dei corsi l'orario dei corsi la prima lezione è alle 6 abbiamo fatto alle 6 del 15 e del 16 per un per un motivo che tutti alle 6 più o meno siamo liberi anche chi ha impegno alla prima lezione vediamo chi è iscritto e siccome saremo 10 20 non credo da arrivarci da 10 15 sul momento decideremo quando tenere le lezioni successive cercando di uniformarlo un po' alle esigenze di ognuno l'altra volta abbiamo fatto così ci siamo riusciti a trovare degli orari che mettessero d'accordo tutti chiaramente poi le lezioni verranno registrate e caricate su uno spazio apposito che sarà accessibile solo ai partecipanti del corso per cui uno di voi non riesce avere il professore anche se non è a disposizione dietro una cattedra ma è dietro un computer è sempre meglio che riguardarsi quel professore perché viene in mente una cosa non si è capito cioè non è mica che se devo spiegare quattro cose è necessario che spieghi quattro cose se una mi rendo conto che la classe ha difficoltà mi concentro cioè questo permette di vedersi però saranno tutte disponibili per cui perdere una lezione è meglio di no però può essere recuperata ci vuole quello che vi chiedo non è che vi chiedo una buona conoscenza dell'italiano non parlato grammaticalmente cioè una conoscenza dell'italiano della grammatica del funzionamento questo ma credo che chi è a livello universitario più o meno ce l'ha una conoscenza elementare dell'inglese perché ci sono il vocabolario e la grammatica migliori sono in inglese vi saranno dati pdf quando parteciperete se chi se le vuole comprare la grammatica di Gardiner la grammatica di Donadoni il dizionario di Faulkner che sono poi gli strumenti che nonostante siano dati 50-60 anni fa sono ancora quelli più validi possono essere acquistati ma chi non può acquistarli gli verranno gli dati poi chi proseguirà riceverà anche il vocabolario la lista insomma vari strumenti che vi spiegheremo anche come utilizzarli perché è fondamentale per l'approccio di una lingua non è soltanto conoscere la lingua e la scrittura di quella popolazione ma è anche conoscere gli strumenti per poi districarsi perché gli strumenti sono quelli che permettono l'accesso perfetto grazie prego io volevo fare una domanda riguardo per esempio una volta terminato il corso lo so che non l'abbiamo ancora iniziato ma volevo sapere se ci potesse essere qualche esame qualche allora noi noi faremo un esame finale per per vedere le competenze non è che poi vi arriva il 18 il 30 il 12 è per vedere le competenze di ognuno e vedere se soprattutto coloro che vorranno continuare hanno raggiunto un livello di competenza tale da permettergli di continuare perché non possiamo prendere persone che non hanno un minimo riconoscenza dell'egiziano antico di disegno perché cioè allora attenzione anche se voi fate vi scrivete solo a quello di geroglifico e poi volete entrare nel questo progetto ma il cosmed che è la missione virtuale dovrete solo dimostrare di avere cioè se conoscete illustrator per esempio non è necessario che seguiate il corso di simona dovrete avere una vi sarà dato un pezzo di iscrizione geroglifica ce lo dovrete ridare non è neanche un esame ve lo diamo e poi dopo due dopo due tre giorni vi chiedete è stato fatto così ecco per alcuni per cui anche se ci sono vostri colleghi che conoscono già il geroglifico ma gli piacerebbe partecipare alla riunione e non sono qua ora diteglielo cioè non è necessario allora io vi chi vuole fare il geroglifico chiaramente geroglifico serve ma chi non ha competenze di disegno con illustrator anche se dice oggi faccio il geroglifico come interesse e domani io però sono una storica dell'arte uno storico dell'arte e il geroglifico non mi interessa più non mi interessa così il corso di di disegno digitale di simona permette un approccio a il disegno in genere e il disegno come ha spiegato bene simona è fondamentale per la ricerca archeologica ancora oggi questo lo ribadisco avete visto proprio ho fatto l'esempio di quelle poi per non dire che con il disegno sullo scavo si lavora molto di più che conoscendo il geroglifico cioè il disegno per cui io vi consiglio di di fare anche quello e comunque alla fine ci sarà un esame vi rilascieremo un attestato che cioè richiedendolo Stefania Jane non me l'hanno mai richiesto non ce l'hanno all'attestato però ve lo posso fare non è che e sarà quello lì se ci sono può servire facendo una convenzione con Chieti me lo dovete dire ora perché prende sempre un po' di tempo vi può valere come crediti questo è anche un altro un'altra cosa io lo facevo con l'università di Enna dove ho insegnato i corsi le missioni valevano come crediti i corsi non valgono molto come crediti ma la missione le missioni archeologiche dove venivano gli studenti e forse questa facendo insomma è da vedere le missioni archeologiche gli studenti ci facevano un botto di crediti perché chiaramente venivano in Egitto passavano otto ore a lavorare e tornavano con quasi tutti i crediti finiti i crediti delle delle attività estracurricolari come si chiamano non mi ricordo più però ecco questo 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 assolutamente ve li diamo alternanza scuola lavoro ma non è il vostro caso perché quello è il caso questo lo possiamo fare ecco perfetto grazie perché in effetti sarebbe comodo avere un attestato o qualcosa che ci possa aiutare anche per mandare avanti con i crediti certo no no ma questo lo faccio è necessario siccome tutte le università italiane hanno procedure diverse per le convenzioni è necessario appena vi siete iscritti se io vedo che ci sono tre quattro due anche due anche uno iscritto lì mi metto d'accordo con la professoressa menozzi inizio la procedura di collaborazione fra l'istituto poliziano per lo studio del mediterraneo e alla fine avrete un attestato che vi vale anche come credito è fattibilissimo già fatto per cui non so perché ogni ateneo ha un conteggio di crediti diverso per cui magari che ne so voi fate questo corso vi vale un botto di crediti a Enna vale due purtroppo il sistema universitario italiano è così Stefania e Jane se lo vogliono io posso fare non gli serviva per i crediti non me l'hanno mai chiesto no altre domande anche se non mi vengono in mente ora ma io ora vi prego soltanto di mandarti che ho fatto ah ecco grazie Jane avevo sbagliato allora attenzione che ho sbagliato il mio indirizzo email c'è un atti che avevo dimenticato quello che Jane ha mandato Jane ha mandato un indirizzo Francesco Tiraditti quello giusto è quello di Jane perché come capirete avrete già capito sono un distratto unico e faccio dei pasticci unici per cui perdonatemi già da ora l'amministrazione e la pasticcionità comunque allora se non avete domande ora è inutile che vi tenga qua a farvi sentire la mia voce sono a vostra completa totale disposizione e questo ve lo posso assicurare che lo sarò per tutto il corso e anche dopo potete potete anche e poi e quando parteciperete chi parteciperà all'elezione potrà prendere anche contatto con Jane Stefania e sentire come studentesse avanzate come si dice studentesse avanzate mi dà sempre il senso che quelle rimaste anche quelle rimaste perché sono avanzate sono avanti però sono anche quelle rimaste dei 18 perché non tutti avevano un interesse a continuare poi non ci sono solo Jane Stefania sono sono delle colonne portanti di quel corso là però ci sono anche altre tre persone che partecipano in maniera più saltuare ma Jane e Stefania saranno ricordate nell'uosuo visitologi dopo la morte perché ora no no ma saranno ricordate perché avranno fatto l'egittologia no perché è un modo nuovo questo qui di concepire la ricerca archeologica epigrafica cioè fare non è proprio da cioè sono nuove tecnologie un nuovo mondo bisogna sfruttarlo a nostro vantaggio e a vantaggio delle nostre professioni e si fanno un sacco di cose comunque io sono a vostra completa disposizione se volete anche parlare con me prendiamo un appuntamento e ci rivediamo sempre su anche su whatsapp posso dare anche il mio numero telefonico su whatsapp anzi ve lo do subito ora Jane controlla che non faccia errori ora lo controllo anch'io stavolta non ho fatto errori ecco questo è il mio mio numero oggi ci funziona whatsapp per cui chiaramente mi dite se vi preferite questo modo di contatto mi mandate un messaggio e ci si può sentire sono a vostra disposizione così professore dove l'ha mandato sulla chat ah no l'ho mandato solo a Teresa solo a Teresa l'ho mandato perché avevo ma sarò il sarò ma veramente bravo grazie 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 non ne faccio una giusta la prima però alla fine non c'è problema ce l'avevo già di Teresa c'è ecco qua comunque questo ora ce l'avete tutti e vi potete cioè poi alla fine sembro così ma alla fine quando pubblico un articolo è molto bene proprio perché io so di essere distratto lo guardo lo riguardo lo riguarda alla fine è abbastanza decente diciamo non dico che sia meraviglioso però decente è perfetto è perfetto grazie del sostegno morale meno male comunque per il ora allora la cosa di cui vi prego chi è interessato mandatemi abbastanza velocemente o per whatsapp o al mio indirizzo i postmed quello di Jane che vi ha mandato Jane all'altro non vi risponde nessuno vi dà un messaggio di errore e mandatevi i vostri indirizzi mail e io così vi mando la documentazione che vi potete poi guardare potete valutare meglio anche a freddo dopo questo incontro se non c'è nient'altro per il corso e vi manderò poi tutte le informazioni per il corso di di arabo che è ancora un po' nel vago ma lo concretizzeremo la prossima settimana sarà tutto ben ben fissato va bene allora io vi ringrazio per salutarci a tutti siamo in vacanza no? come vai? voi siete in piena estate perché Anna Maria Rosco in piena estate e in vacanza in vacanza perché essendo in Argentina beati beati voi ora poi hanno vinto il campionato del mondo infatti va bene va bene questo voleva beverti e salutarci anche a me fa sempre piacere vederti Anna Maria si lo stesso se vuoi ci sentiamo però non ho niente da dire si allora un saluto vi ringrazio a tutti per essere intervenuti e spero di risentirci presto a tutti quanti vi saluto buona domenica allora grazie domenica ciao Jane ciao 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 Francesco grazie Teresa ciao saluta il freddo che si è sentito prima ah sì bene certo lo saluto ciao 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 ciao